Probabilmente è ora di finirla, ma lo dico in maniera molto pacata, che le strategie sia a livello nazionale che a livello continentale siano definite solamente da coloro che sono degli azzecca garbuli. Il presidente dell'autorità portuale Zeno D'Agostino dice di non essere arrabbiato in seguito all'intimazione al governo italiano da parte della Commissione europea di abolire le esenzioni fiscali ai porti ritenuti aiuti di Stato, però la sua posizione innanzitutto ferma, quindi persino stupita se vogliamo. Nessuno mi ha mai chiesto quanto costano, quanto vengono i canoni di concessione in un porto, è un elemento che è una delle parti che compone il costo logistico della gestione di un terminal, per cui questo fatto che applicare l'IVA o meno possa in qualche modo andare a creare distorsioni alla concorrenza lo ritengo sicuramente non un elemento fondamentale della competitività dei terminal. Fra l'altro, sottolinea il numero uno della torre del Lloyd, l'applicazione della decisione da parte dell'Unione europea potrebbe portare le autorità portuali a dei bilanci, come dire, compromissori. Noi facciamo un bilancio di tipo pubblicistico, un bilancio di tipo privatistico, che insomma siamo anche abituati a fare, chi lo fa di solito cerca sempre di ridurre gli utili al minimo in modo da non pagare tasse, vuol dire che faremo lo stesso anche con le autorità portuali, quindi io non vedo le ragioni per arrivare a questo tipo di aggressione. D'Agostino poi specifica. Noi abbiamo tantissime spese che sono connesse alla manutenzione delle nostre aree demaniali, piuttosto che alla sicurezza delle aree demaniali, piuttosto che a tante altre attività che fa l'autorità direttamente o attraverso le sue partecipate. Mi permetto di dire che faremo coincidere le entrate e le uscite, come fa ogni imprenditore o commercialista quando va a redigere i suoi bilanci e cercheremo di arrivare a definire l'utile minore possibile. Detto che il governo italiano potrebbe appellarsi alla Corte di Giustizia ma non sembrerebbe intenzionato a procedere in tal senso, ci sarebbe un altro dato da sottolineare ed Agostino lo fa non senza una certa ironia. Sarà più difficile, più complesso ottenere finanziamenti dallo Stato centrale, significa, e la banalizzo veramente, che probabilmente a quel punto sarà più facile che arrivi in un porto italiano il soldo pubblico di Pechino piuttosto che il soldo pubblico di Roma.